Domani si apre in corte d'appello all'Aquila il ricorso contro la sentenza di primo grado per l'omicidio di Emanuele Fadani, il commerciante di 38 anni di Albadriatica, ucciso l'11 novembre del 2009 con un pugno davanti a un pub di Albadriatica. Il ricorso, che suscitò molte polemiche, è stato presentato dalla procura di Teramo e dalle parti civili quali hanno impugnato il provvedimento del GUP di Teramo Giovanni De Rensis. Il giudice, nell'aprile dello scorso anno, aveva condannato infatti a 10 anni solo uno dei tre accusati inizialmente dell'omicidio, ovvero Elvis Levakovich, mentre i cugini Sante Spinelli e Danilo Levakovich, che avevano partecipato al pestaggio, furono assolti per non aver commesso il fatto. Elvis e gli altri due erano stati giudicati con il rito abbreviato. La procura aveva chiesto 30 anni per ognuno dei nomadi. Il procuratore capo Gabriele Ferretti e il sostituto Roberta Davogno avevano contestato a tutti l'omicidio volontario aggravato. I familiari di Fadani in questi mesi non si sono mai rassegnati a quella sentenza e chiedono tuttora giustizia nei confronti di Emanuele. Anche la comunità albense si è sempre stretta attorno alla famiglia. Confidiamo nella magistratura, dichiarano gli stessi familiari, affinché anche simili condotte di compartecipazione ad atti violenti vengano sostanzialmente punite e responsabilizzate alla stregua di un reato violento conclamato, confesso o comprovato.